la nuova strada intrapresa la juventus ormai chiara evidente quella di puntare su giovanissimi giovani comunque talenti di grande prospettiva che possono rappresentare il futuro della juventus dentro e fuori dal campo ecco che secondo calciomercato.com ci sarebbe stato un incontro una trattativa in realtà ben avviata tra la juventus e un giocatore che potrebbe rappresentare un po la nuova visione della juventus quella che si avvicina ai ai cananillis ecco per intenderci scopriamo il dettaglio di chi si tratta qui su fcm newsport che come sempre vi ricordo essere uno dei pochi canali sulla piattaforma essere totalmente gratuito non vi costa semplicemente nulla iscrivervi al canale e soprattutto lasciare like ai contenuti perché ci aiuta nello sviluppo di nuovi servizi ovviamente vi ricordo qui sotto c'è la sessione dedicata ai commenti per dire la vostra sui sulle varie tematiche allora lo stiamo vedendo la juventus è chiaro l'obiettivo è quello cioè puntare sui giovani stiamo vedendo che oggi la juventus con lo stop del decreto cresce da quella che perde di meno perché tutti gli altri calibri devono se hanno una necessità intervenire sul mercato inevitabilmente se il mercato è chiuso attraverso i parametri zero quindi che puoi prendere istantaneamente se il mercato è aperto attraverso degli acquisti la juventus invece ha un'arma che è quella della next gen quando sei in difficoltà hai bisogno di inserire dei giovani ma che siano già di livello per la tua squadra ecco che puoi attingere la next gen ecco che c'è un altro nome che cristiano giuntoli e giovanni manna stanno visionando e ci sarebbero stati contatti approfonditi per questo ragazzo stiamo parlando di inaki gonzalez giocatore molto interessante di cui si parla un gran bene si è parlato un gran bene negli ultimi giorni stiamo parlando di un giovane interessantissimo che di cui si parla si parla molto perché è uno di quei classici giocatori che la juventus sta visionando da tempo e di cui secondo me diciamo c'è la verità anche bisogno perché lo stiamo vedendo con i vari chena lildiz con sulle questi ragazzi quando sono forti possono essere inseriti con facilità e istantaneamente è un usatore della spalmas stiamo parlando di un centro una prisa classe 2004 molto interessante di una buona struttura fisica perché alto 1 85 e riesce a abbinare bene quantità e qualità siamo parlando ragazzo molto giovane e è un destro naturale che riesce a abbinare bene le due fasi quella di e la della della costruzione ma anche quella dell'inserimento senza pallone insomma siamo andati un giocatore che è veramente intrigante tra l'altro ha già fatto il suo esorto in liga quindi sa quanto ragazzo giovane ma non giovanissimo cioè non è non ha 16 anni un classe 2004 quindi parliamo di una che già è sortito in liga contro il villa real parliamo di uno che ha quei tempi di inserimento e quella propensione al gol che ha lo ha già spinto nel calcio che conta è uno di quei è uno di quei profili che intriga fin da subito perché ha le caratteristiche giuste per poter insomma far bene in un centrocampo come quello secondo me della juventus di fatto è un giocatore che intriga molto anche perché è scadenza di contratto e quindi fa parte dell'agenzia sia a che è un'agenzia in cui la juventus ha buonissimi rapporti quindi la juventus potrebbe approfittare anche di questo aspetto per approfondire questo tipo di prospettiva occhio però perché l'idea della juventus è comunque farlo partire dalla next gen e questo potrebbe essere il passaggio su cui poi si baserà la trattativa cioè non tutti i giocatori che sono giovani che vengono affiancati alla juventus sono col felici di essere inizialmente inseriti al settore next gen non tutti ci sono quelli che lo accetto di buon grado perché capiscono che è un percorso di crescita che ti serve un po come fatto con i canali con i healing e compagnia o con i sule ci sono quelli che dicono no ma io mi sento già pronto andiamo subito in prima squadra non sempre questo è possibile non sempre questo è realizzabile quindi staremo a vedere se queste queste due esigenze si possono andare a collimare cioè la volontà del ragazzo di arrivare subito ma o in prima squadra o in next gen ci sono delle riflessioni in corso ma i contatti ci sono stati sono stati ravvicinati giunto l'ha incontrato l'agente del ragazzo e ha già detto al appunto alla gente di essere interessato all'acquisto di questo ragazzo che andrebbe a rinforzare ancora di più quello che il settore giovanile la juventus abbiamo visto ad esempio che da poco è arrivato azic un altro giocatore che da questo punto di vista è molto interessante molto futuribile e la juventus facendo così riesce ad anticipare la concorrenza come detto la juventus quando è uscita fuori la notizia del decreto crescita parolossalmente non dico che ha gioito perché non è così però in qualche modo è rimasta che può essere un'arma a favore della juventus perché non soltanto la juventus ha già inserito molti giovani quindi non ha questo problema ma ora le altre squadre avranno difficoltà perché quando ora la roma deve cercare un attaccante prende lukaku e non c'è più il decreto crescita che ti aiuta quando l'inter va a prendere turamma parmetto zero dando un ingaggio pesante perché non può spendere materialmente e non ha più il decreto crescita così come tutte le altre ormai quasi tutte le squadre piuttosto di andare a prendere un giocatore dalla serie b che magari vedi promettente vanno all'estero perché sapendo il discorso decreto crescita sanno che arriva da fuori magari anche se ha un ingaggio a 5 milioni ci sono i vantaggi economicamente parlando da un punto di vista proprio fiscale dei benefici fiscali che ti dava il decreto crescita che ma anche la juventus ne ha beneficiato con i pogba con i paredes con i di maria guarda caso però il vento si sta allontanando da quel filone la dei paredes di maria e poi vedremo anche da pogba perché sta puntando sui giovani e questo vuol dire quindi che il decreto crescita se c'è o non c'è cambia esposta fino fino a un certo punto la juventus da questo punto di vista può avere delle delle idee abbastanza diverse rispetto agli altri per cui staremo a vedere io credo che questo ragazzo possa essere un investimento ma chiaramente qua siamo ancora nel campo delle ipotesi perché parlando di una società che con i giovani ci sta lavorando bene abbiamo visto l'arrivo come detto di azic a juventus ha trovato l'accordo già ragazzo è a turino abbiamo visto anche una juventus che si stava proponendo per popovic altro grandissimo prospetto anche lui a parametro zero ormai tra l'altro la tendenza dei giovani è quella di non rinnovare più perché sanno poi che a parametro zero anche per loro che sono molto giovani è più facile trovare le società che puntano su di loro perché ormai il calcio è talmente tanto in crisi per certi aspetti in certe dinamiche in certe realtà che ormai spendere cifre enormi o sei la premier league o sei la saudi league o è complicato per tutti per cui i giovani stessi preferiscono non rinnovare andare a zero e decide liberamente poi su cosa si va anche perché ricordiamolo che se vai a parametro zero e c'è sempre la variante legata al fatto che ci sono poi due fattori il giocatore spinge per avere un ingaggio più alto che momenti in cui rompa il cartellino vai a spingere di più sul sull'ingaggio soprattutto ci sono anche gli agenti che spingono su questo qualche settimana fa infatti abbiamo parlato in un servizio proprio di quelle che sono le cifre folli quest'anno pagate dal calcio europeo per quanto riguarda gli indennizi relativi ai procuratori molto spesso cosa succede che un giocatore a parametro zero non paghi quindi la società di appartenenza che è la proprietà del cartellino fino a qualche mese prima ma quei soldi che magari una piccola parte questo di dovitare al club magari dai al procuratore il classico bonus alla firma delle incentivi per il procuratore per dire fallo firmare da me e quindi 5 10 milioni 15 milioni sono vari cifre incredibili perché sono nell'anno 2023 soldi che sono andati ai procuratori sono tantissimi stiamo parlando di cifre pari quasi a 800 milioni di euro soldi che tra l'altro ripeto molto spesso escono dal mondo del calcio perché non sono all'interno dei club eventos non paga 10 milioni al al sassuolo quindi rientrano sempre il sistema calcio ma escono perché andando ai procuratori escono al sistema calcio poi quei soldi il calcio non li vede più per cui staremo a vedere questo ragazzo anche lui scadenza quindi è anche lui fa parte di quelle team di giocatori che giuntoli sta seguendo perché era una squadra per il futuro interessante staremo a vedere se sarà così staremo a vedere se questo ragazzo inaki gonzalez potrà diventare anche un calcio della livello che poi in futuro potrà magari far alla fine di sulle quindi mandato in prestito poi in una squadra di serie a e vedere che fine farà oppure di hildiz che stiamo venendo tutti essere davvero un futuro campione